Buongiorno, buongiorno al vostro homeless. Sono qui alla Lanzerini, la biblioteca a Prato, un centro, non è proprio un centro e mi è venuta un'ispirazione, ogni tanto mi è venuta un'ispirazione e volevo fare dei calcoli sull'amore. Vedete? Calcoli dell'amore. Come si calcola l'amore? Ora vi faccio vedere come si calcola l'amore. Siete pronti? C'è un calcolo, ve lo sto per mostrare. Siete pronti come si calcola l'amore? Aspettate. Eccolo lì come si calcola l'amore. Una vita di guerre! Questo è il calcolo che è venuto fuori. Una vita di guerre che ancora oggi non sono finite. Ma questo è il calcolo dell'amore. Questo è il calcolo dell'amore. Ci sono altre calcoli, eh? Però... Viva forever! I'll be waiting! Il calcolo dell'amore. Vedete? Il calcolo dell'amore è venuto fuori. Una vita di guerre. Questo è il calcolo dell'amore. Il calcolo dell'amore è venuto fuori. Così è la vita. Vabbè, aspettiamo un altro. ... Grazie.